we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video io sono xyuderone e ragazzi sfide della settimana numero 8 una delle più particolari ci chiede di usare due telefoni giganti presenti nella mappa per chiamare il pizza pit e il dur burger beh ragazzi il primo telefono eccolo qua siamo a ovest del quartiere ragazzi come vedete dalla mappa siamo esattamente qui quindi molto facile da capire il numero è proprio scritto sopra al nostro telefono gigante e che e con un'arma qualsiasi arma ragazzi ad esempio la prendiamo qua basta semplicemente comporre il numero 5 5 5 0 1 9 8 sparandoci sopra 5 5 5 0 1 9 8 0 1 9 e 8 fatto così ci darà la sfida andiamo subito ragazzi a vedere invece il secondo telefono che abbastanza lontano si trova nella montagna vicino a lande letali voglio farvi vedere dov'è in modo da completare la sfida ovviamente va fatta in due partite diverse ma vale la pena arrivarci con la palletta tagliamo semplicemente tutta la mappa ma tanto lo sapete che sono il re della palla in italia attenzione che andiamo dobbiamo raggiungere ragazzi qua questa montagna quella che c'è ragazzi proprio di fianco a lande letali troveremo un altro telefono gigante che ci servirà per completare questa sfida molto molto particolare che conferma comunque la rivalità che c'è tra il pizza pit e il dur burger sul nostro tanto amato fortnite un sacco di modifiche ragazzi per questa mappa in questa patch la 8.4 alcune sono davvero evidenti quelle del disponde del saccheggio quell'enorme cilindro che avete visto anche nel video di questa mattina se non l'avete guardato andate a dargli un'occhiata perché ci sono delle immagini non presenti in game davvero molto interessanti e ovviamente il nuovo bunker a parco pacifico nella casa più piccola di parco pacifico siamo quasi arrivati intanto al secondo telefono lo stiamo per raggiungere è davvero molto lunga fare tutta la mappa con la palletta ma praticamente siamo a lande ragazzi quindi è fatta ci tenevo a farvelo vedere perché è davvero molto carino una cosa molto curiosa molto particolare e molto divertente come solo epic games sa fare la montagna è proprio questa ragazzi eccoci arrivati finalmente vediamo di salire è il telefono eccolo qua ragazzi avete capito dove siamo tanto esplode la palla gg per i bug il numero è 5 5 5 0 1 5 2 è sparito anche il telefono porca miseria è sparito anche il telefono vabbè telefono a parte che sparisce ragazzi o meglio che scompare questa è la posizione la sfida è completata io vi ringrazio per avere guardato questo video noi ci vediamo in live e anche con i prossimi video tutorial ciao 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 ciao